Propaganda di Edouard Bernays Manipolazione dell'opinione pubblica in democrazia Capitolo 3 I nuovi propagandisti Buon ascolto Se ti fa piacere, puoi sostenere il canale MCC137 e la libera informazione con una donazione o con una condivisione. Grazie! Capitolo 3 I nuovi propagandisti Chi sono gli uomini i quali, senza che noi ce ne accorgiamo, ci suggeriscono cosa pensare? Ci dicono chi dobbiamo ammirare e chi disprezzare? Oppure come dobbiamo considerare la proprietà dei servizi pubblici, le tariffe doganali, il prezzo del caucciù, il piano Davos o l'immigrazione? Sono sempre loro che ci consigliano l'arredamento della nostra casa, il menù quotidiano, il modello di camicia più elegante, gli sport da praticare, gli spettacoli da vedere, le iniziative benefiche meritevoli di aiuto, i quadri degni di ammirazione e perfino i termini gergali da inserire durante una conversazione e le battute di spirito che ci dovrebbero far sbellicare dalle risate. Se volessimo compilare l'elenco degli uomini e delle donne che per la loro opposizione sociale devono essere considerati come opinion maker, avremmo una lunga lista di nomi recensiti nel WWU. L'inventario comprenderebbe il Presidente degli Stati Uniti e il Consiglio dei Ministri al gran completo, i senatori e i rappresentanti eletti al Congresso, i governatori dei nostri 48 Stati, i Presidenti della Camera di Commercio delle nostre 100 maggiori città, i Presidenti di Rettori Generali dei Consigli di Amministrazione delle prime 100 grandi imprese industriali, il Presidente dei numerosi sindacati affiliati all'American Federation of Labor, il Presidente di ogni corporazione e organizzazione professionale nazionale, il Presidente di tutti i gruppi costituiti negli USA in base alla razza o alla lingua, i Direttori di centinaia di grandi quotidiani e magazine famosi, i 50 scrittori più letti, i Presidenti delle 50 opere di beneficenza più benemerite, i 20 produttori teatrali e cinematografici più conosciuti, i 100 arbitri della moda più ascoltati, gli ecclesiastici più stimati e più influenti delle 100 maggiori città, i Rettori delle nostre università e i Presidi di Facoltà, i più eminenti rappresentanti del loro corpo insegnante, i più potenti finanzieri di Wall Street, gli sportivi più celebri, ecc. Una simile lista comprenderebbe migliaia di persone, tuttavia sappiamo che molte di esse sono a loro volta sotto l'influenza di individui, spesso noti solo a una cerchia molto ristretta. Più di un rappresentante alla Camera, quando prepara il suo programma, segue i suggerimenti di un cacicco del partito, il cui nome dice poco o nulla a coloro che non appartengono all'apparato politico. Ecclesiastici eloquenti possono avere molta influenza sulle loro comunità, ma generalmente eseguono le indicazioni che giungono dall'alta gerarchia. Nello stesso modo, i dirigenti delle Camere di Commercio sono abili nel convincere gli uomini d'affari della propria regione della bontà delle loro idee sui vari problemi, ma queste spesso sono suggerite da un'autorità nazionale. Anche se, in base alla formula canonica, quel certo candidato alle presidenziali è stato designato per rispondere a un'immensa attesa popolare, tutti sappiamo in realtà che è stato scelto da una decina di signori riuniti in un piccolo comitato. Il potere degli uomini dell'ombra è talora manifesto. La storia del gabinetto segreto che decideva le sorti della nazione intorno a un tavolo da poker in una piccola serra di Washington è entrata nella leggenda. Ci fu un tempo in cui un uomo solo, Mark Hanna, dettava al governo le grandi linee della politica. O altro esempio, un Simons poter raccogliere l'adesione di milioni di persone su un programma politico caratterizzato da intolleranza e violenza. Per il pubblico questi personaggi presentano tutte le caratteristiche di coloro che fanno parte del governo invisibile. Ma nutriamo il sospetto che esistano anche in altri ambienti dei dittatori altrettanto influenti dei politici. Una Irene Castel può imporre la moda dei capelli corti al 90% delle donne che pretendono di essere eleganti. Gli arbitri francesi della moda hanno accorciato a tal punto le gonne che se solo vent'anni fa una new yorkese avesse indossato pubblicamente un simile abbigliamento sarebbe stata subito arrestata e messa in galera. Oggi invece questa scelta ha costretto tutta l'industria del pret-à-porter femminile a riorganizzarsi investendo centinaia di milioni di dollari. Dirigenti invisibili controllano il destino di milioni di esseri umani. Generalmente ignoriamo fino a che punto le dichiarazioni e le azioni di coloro che occupano il proscenio siano dettate da abili personaggi che agiscono dietro le quinte. E, cosa ancora più grave, non comprendiamo come e quanto riescano a plasmare il nostro modo di pensare e i nostri comportamenti. In molti ambiti della vita quotidiana, dove crediamo di poter esercitare il libero arbitrio, in realtà obbediamo a temibili dittatori. Chi acquista un abito è convinto di scegliere il modello che gli piace, conforme ai suoi gusti e adatta alla sua personalità. In realtà è molto probabile, invece, che si pieghi agli ordini di un grande, anonimo sarto londinese, socio in accomandita di una casa di confezioni molto stimata tra gli uomini di mondo. E' lui che suggerisce a questo campione di persone, scelte con la massima cura, di indossare vestiti blu piuttosto che grigi, una giacca con due bottoni invece che tre, e maniche un po' più strette di quelli della stagione passata. I distinti clienti approvano. In che cosa tutto ciò riguarda il signor John Smith di Topeca? Il sarto londinese lavora sotto contratto con una grande società americana specializzata nelle confezioni maschili e le invia in breve tempo in modelli prenotati dagli arbitri dell'eleganza britannica. Non appena la società riceve questi disegni e le specifiche relative al colore, alla qualità e alla consistenza del tessuto, passa un'ordinazione di diverse centinaia di migliaia di dollari ai vari produttori. Gli abiti sono tagliati e cuciti secondo le indicazioni precise fornite da Londra, poi vengono presentati come il non più ultra della moda. A New York, Chicago, Boston e Philadelphia, gli uomini che ci tangono ad essere eleganti li indossano subito e davanti alla loro autorevolezza il cittadino di Topeca prima o poi si inchina. Anche le donne subiscono le ingiunzioni del governo invisibile. Un filatore di seta che cercava nuovi sbocchi commerciali suggerì a una grande industria calzaturiera di ricoprire di seta le sue scarpette per assortirle all'abito dell'elegantone. Subito approvata, l'idea divenne oggetto di una propaganda sistematica. Una nota attrice fu convinta a calzare quelle scarpe e la moda si diffuse rapidamente. La fabbrica era pronta a soddisfare la domanda che era stata creata e la seteria produceva una quantità crescente di tessuto per rispondere alle prestanti richieste del calzaturificio. L'uomo che aveva lanciato questa idea dominava così un aspetto della vita sociale femminile. Altre persone ci impongono la loro legge in diversi ambiti dell'esistenza quotidiana. A fianco dei potenti che agiscono all'ombra del trono ci sono coloro che intervengono sulle variazioni del tasso di sconto federale o che decretano quali saranno i balli in voga nella prossima stagione. Se, cosa non del tutto inconcepibile, un governo invisibile dirigesse effettivamente i nostri destini, il martedì si rivolgerebbe a un certo gruppo di leader per raggiungere un determinato obiettivo. Il mercoledì agirebbe tramite un altro gruppo completamente diverso e così di seguito. Il concetto di governo invisibile è tuttavia relativo. Un pugno di persone detta molto probabilmente in metodi pedagogici di quasi tutte le nostre scuole. Ma secondo un'altra prospettiva un genitore è anche un capo clan che esercita la propria autorità dei suoi figli. La concentrazione del governo invisibile nelle mani di pochi individui si spiega con il costo dei dispositivi sociali necessari per controllare i pensieri e i comportamenti delle masse. Costa molto promuovere un'idea o un prodotto presso 50 milioni di persone. Sono onerosi anche i mezzi per convincere i leader che in ogni settore influenzano i gusti e i comportamenti del pubblico. Da qui la tendenza crescente a centralizzare le operazioni di propaganda affidandole a specialisti che sempre di più occupano un ruolo e funzioni a sé stanti. La comparsa di professioni finora sconosciute richiede un rinnovamento della terminologia. Il propagandista specializzato che si fa l'interprete dei progetti e delle idee presso l'opinione pubblica e ne riporta le reazioni agli artefici di questi progetti e di queste idee viene ormai comunemente definito un consigliere in pubbliche relazioni. La nuova professione delle PR nasce dalla sempre più complessa vita moderna e dalla concomitante necessità di spiegare le iniziative di una parte della popolazione ad altri settori della società. Essa trova origine anche dalla crescente dipendenza delle istanze del potere dall'atteggiamento della pubblica opinione. Che siano monarchici o repubblicani democratici o comunisti i regimi hanno bisogno del consenso dell'opinione pubblica per realizzare i loro progetti. Del resto ogni governo può operare solo con l'accordo dei governanti. Le industrie i servizi pubblici i movimenti educativi ogni gruppo che intende rappresentare un concetto o un prodotto una corrente di idee maggioritarie o minoritarie hanno successo solo con l'avallo dell'opinione pubblica che è implicitamente coinvolta nelle iniziative di grande rilevanza. Un consulente in pubbliche relazioni e quindi colui che servendosi dei mezzi della comunicazione moderna e delle formazioni collettive presenti all'interno della società si incarica di far conoscere una determinata idea al grande pubblico. Ma non si limita a questo. Studia i comportamenti le dottrine i sistemi e le maniere per ottenere il sostegno popolare. E' attento alle cose concrete come i prodotti grezzi e manufatti. Sa che cosa avviene nei servizi pubblici nelle grandi corporazioni e nelle associazioni che rappresentano interi settori industriali. Le funzioni che svolge per il suo cliente sono molto simili a quelle di un avvocato con la sola differenza che quest'ultimo si concentra sugli aspetti giuridici dell'azione del proprio assistito mentre il consulente in pubbliche relazioni lavora sui punti di contatto tra l'attività del cliente e il pubblico. Segue dalla A alla Z lo sviluppo delle idee dei prodotti dei processi suscettibili di sedurre le masse o comunque destare il loro interesse. Ad esempio quando lavora per un'industria studia il prodotto i mercati le reazioni del pubblico al prodotto l'atteggiamento del personale verso il prodotto e la clientela la cooperazione degli organismi di distribuzione. Dopo aver esaminato tutti questi fattori e altri ancora il consulente in pubbliche relazioni presenta tutto ciò che fa il suo cliente in modo da attirare l'attenzione e il consenso del pubblico. I mezzi utilizzati sono quelli propri della comunicazione in senso largo lo scambio verbale ed epistolare il teatro o il cinema la radio le conferenze i quotidiani i settimanali e altro. Il consulente in pubbliche relazioni non è un pubblicitario ma qualcuno che consiglia di ricorrere alla pubblicità tutte le volte che lo ritiene utile. Spesso un'agenzia pubblicitaria lo contatta per aiutarlo nel suo lavoro perché non c'è conflitto né duplicazione con quello dell'agenzia. In un primo tempo si dedica all'analisi dei problemi che gli vengono presentati poi verifica se l'offerta proposta dal suo cliente incontrerà il favore del pubblico o se ci sono gli strumenti per influenzarlo in tal senso. Sarebbe infatti inutile preparare il terreno per lanciare un'idea o un prodotto che sappiamo già in anticipo avere ben scarse probabilità di successo. Ad esempio se un orfanotrofio rileva una riduzione sensibile delle donazioni si stupisce dell'atteggiamento del pubblico che nei suoi confronti manifesta indifferenza o addirittura ostilità. Il consulente in pubbliche relazioni potrà scoprire dopo una ricerca che la sensibilità dell'opinione pubblica alle moderne tendenze sociologiche suscita una critica subconscia di questa istituzione che non risponde più alle nuove norme che prevedono una struttura diversa organizzata in padiglioni simili a piccole case. Allora raccomanderà al suo cliente di apportare le modifiche necessarie. Altro esempio solleciterà una compagnia ferroviaria a dotarsi di un treno rapido perché in tal modo aumenterà il suo prestigio e i benefici e effetti avranno certamente ricadute positive sul corso delle azioni e delle obbligazioni della società. Sollecitato dai produttori di corsetti che vogliono rilanciare il prodotto farà loro notare che si tratta di un'idea irrealizzabile tenuto conto dell'emancipazione femminile. I suoi esperti del settore potranno tuttavia scoprire che le donne potrebbero essere disposte ad accettare un modello di bustino privo di tutti quegli elementi che lo rendevano scomodo e dannoso per la salute. in un secondo tempo si interessa al pubblico potenziale studia i gruppi che il suo cliente vuole raggiungere individua i leader che possono facilitare l'approccio si tratta di gruppi sociali economici o territoriali classi di età formazioni politiche o religiose comunità etniche linguistiche o culturali sono queste le categorie attraverso le quali per conto del suo cliente si rivolge al grande pubblico dopo aver compiuto questa duplice analisi e vagliati risultati passerà alla fase successiva l'elaborazione di una strategia che definisce la pratica generale le procedure e le modalità che il suo cliente dovrà eseguire tutte le volte che entra in contatto con il pubblico il riconoscimento delle diverse funzioni che spettano al consulente in pubbliche relazioni risale probabilmente all'inizio del secolo quando una serie di scandali colpì le società di assicurazioni e suscitò l'indignazione generale per le somme che le grandi imprese avevano investito nella stampa popolare per farsi pubblicità i gruppi assicurativi messi sotto accusa scoprendo l'ostilità di quei cittadini che pretendevano di servire si rivorsero agli esperti perché li aiutassero a capire l'opinione pubblica e si facessero loro interpreti presso di essa mossa da un interesse puramente personale l'assicurazione Metropolitan Life decise di avviare una campagna che a vantaggio suo e del pubblico doveva mettere sotto un'altra luce le compagnie di assicurazione in generale e il proprio marchio in particolare si adoperò per ottenere una posizione preminente induciando le persone a sottoscrivere le sue polizze a tale scopo dispiegò un'iniziativa volta a coprire tutti gli aspetti della vita sia collettivi che individuali propose ai comuni delle inchieste sanitarie raccolse i pareri degli specialisti inondò il grande pubblico di informazioni e consigli in materia di igiene la riorganizzazione investì anche la sede della compagnia un edificio abbastanza originale per imporsi allo sguardo e rimanere impresso in tal modo la Metropolitan Life riuscì a raccogliere un ampio consenso quanto più aumentavano i contatti con la società tanto più si moltiplicavano il numero e le diversità delle polizze nel giro di una decina d'anni molte imprese decisero di assumere sotto varia denominazione un consulente in pubblica relazione perché avevano compreso che la loro prosperità dipendeva dal consenso sociale che riuscivano a conquistare lungi dal pensare come in passato che la società non doveva immischiarsi con i loro affari le imprese si adoperarono per convincere la società che rispettavano le sue esigenze di onestà e di giustizia un'azienda sapendo che il pubblico disapprovava la sua politica dell'occupazione decise di adottare una linea di condotta più illuminata al solo scopo di conciliarsi l'opinione pubblica un grande magazzino che dopo una ricerca scopre che la contrazione delle vendite è dovuta alla maleducazione dei suoi dipendenti organizza subito un corso di formazione per insegnare loro l'ABC della cortesia e del tatto l'esperto in relazioni pubbliche può presentarsi come direttore o consulente spesso occupa un posto di segretario generale di vicepresidente o direttore di attaché di gabinetto o di delegato ma indipendentemente dal titolo ufficiale svolge funzioni definite con precisione e le sue valutazioni hanno un'influenza determinante sul comportamento del gruppo o della persona per cui lavora oggi molti ancora pensano che il consulente in pubbliche relazioni sia un propagandista in realtà il momento in cui generalmente si pensa incomincia ad intervenire corrisponde spesso alla fase ultima della sua azione dopo una ricerca approfondita sul pubblico e sul committente la sua missione può definirsi conclusa con la formulazione delle misure che ritiene opportune talvolta va oltre per garantire pieno successo al suo lavoro in molti casi se si vuole che il grande pubblico comprenda e apprezzi nel suo giusto valore le intenzioni di un commerciante di un educatore o di un uomo di stato è indispensabile informarlo costantemente in modo dettagliato e trasparente il consulente in pubblica relazione deve allora dare prova di una vigilanza costante per impedire che la diffusione di informazioni non adeguate o sbagliate abbiano ricadute molto negative una falsa voce propalata in un momento critico è in grado di provocare un crollo delle azioni che costerebbe milioni di dollari il segreto o il mistero che avvolgono le transazioni finanziarie di un'impresa genera un sospetto diffuso che potrebbe diventare un invisibile freno a tutte le iniziative rivolte all'opinione pubblica il consulente in pubblica relazioni deve essere capace di bloccare alla fonte le voci e i sospetti dando nel più breve tempo possibile informazioni esatte o più complete tramite mezzi di diffusione efficaci deve inoltre stabilire una fiducia talmente solida nell'integrità del proprio cliente da spegnere sul nascere ogni insinuazione e diceria le sue funzioni possono anche comportare la ricerca di nuovi mercati di cui non sospettava neppure l'esistenza riconoscere che il lavoro delle pubbliche relazioni costituisce una professione a pieno titolo significa anche ammettere che esso risponde a un ideale e obbedisce a un'etica pubblica l'ideale molto pragmatico consiste nel far sì che il suo cliente un'assemblea elettiva incaricata di formulare le leggi o un industriale che fabbrica prodotti di largo consumo capisca che cosa desidera l'opinione pubblica e viceversa essa comprenda quali sono gli obiettivi del committente nel mondo industriale il consulente in pubbliche relazioni punta a raggiungere l'obiettivo ideale che consiste nell'eliminare le perdite di tempo e i contrasti provocati quando l'azienda avvia la produzione di beni che ben prezzo si vede avranno uno scarsissimo mercato le compagnie telefoniche ad esempio utilizzano grandi servizi di pubbliche relazioni per spiegare il senso delle loro iniziative e non sprecare energia in deplorevoli malintesi la descrizione della minuzia scientifica che la guida della scelta del prefisso alfanumerico delle loro centrali telefoniche in modo da rendere questi codici comprensibili e chiaramente identificabili consente al pubblico di apprezzare lo sforzo compiuto per garantirli un servizio di qualità sollecitando a cooperare l'ideale delle pubbliche relazioni è facilitare la relazione tra docenti e allievi tra governo e popolo tra istituzioni di beneficenza ai loro donatori e tra le stesse nazioni d'altronde questa professione ha elaborato un proprio codice morale che non ha nulla da invidiare a quelli degli avvocati o dei medici e che gli è imposto dalle condizioni stesse del suo lavoro al pari dell'avvocato anche il consulente in pubblica relazioni riconosce che ciascuno ha il diritto di presentare il suo caso sotto la luce migliore tuttavia si rifiuterà di assistere un cliente che reputa disonesto e di lavorare per un prodotto contraffatto o per una causa che giudica antisociale uno dei motivi è che questo difensore specializzato nel promuovere una determinata idea o prodotto viene associato agli occhi della gente al cliente che rappresenta inoltre ogni volta che perora una causa davanti alla corte il tribunale dell'opinione pubblica cerca di pesare sul verdetto e le decisioni dei giurati nel palazzo di giustizia il potere decisionale è bilanciato tra il magistrato e la giuria davanti all'opinione pubblica il consulente in pubbliche relazioni svolge i due ruoli insieme perché nello stesso tempo durante la perorazione esprime il suo parere ed emette il verdetto inoltre il consulente si rifiuta di assistere un cliente i cui interessi collidono con quelli di un altro cliente non accetta coloro che presentano casi disperati o propongono di commercializzare prodotti invendibili la sincerità deve essere la sua regola aurea perché va ribadito egli non mira a ingannare il pubblico o a indurlo in errore se lo facesse la sua reputazione crawlerebbe e professionalmente parlando sarebbe un uomo finito tutto il materiale di propaganda che viene inviato reca indicazioni precise che consentono di risalire alla fonte i giornalisti sanno quindi da dove proviene perché è stato spedito ed è in funzione del suo valore informativo che ne decidono la pubblicazione grazie per l'ascolto e alla prossima grazie per l'ascolto